Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto, dato che non ci sono molte notizie di politica oggi, vi racconto anche questo, che fa sempre comunque parte della politica, una curiosità. La Meloni pronta al trasloco, casa nuova con piscina e vi racconto le cifre dell'affare. È una casa di 350 metri quadri, su due piani e più di 100 metri quadri di giardino con piscina. Per ora solo sulla carta, perché è poco fuori dal raccordo onolare nel quartiere sud di Roma. Così, una villa da 1 milione e 100 mila euro con piscina. Entro due mesi, scrive il Fatto Quotidiano, la Presidente del Consiglio entrerà in possesso dell'immobile di 350 metri quadri. Il 31 marzo ha firmato il premio eliminare d'acquisto, mentre ha venduto poi il 5 giugno scorso la vendita per 650 mila euro del primo piano nel quartiere Torrino dove abita. Beh, primo piano no, forse ultimo piano, non primo piano, ultimo piano, del quartiere Torrino dove abitava dal 2017. Dicono, scrivono che per chiudere le trattative nel minor tempo possibile in mancanza del certificato di agibilità del palazzo, che non si trovava, Meloni ha quindi prestato la garanzia di cui agli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile in ordine all'idoneità dell'immobile in oggetto all'uso abitativo. Allora, com'è questa villa? 347 metri quadri, catastali, due piani e 100 metri quadri di giardino con piscina, per ora solo sulla carta, vicino al raccordo anulare. Così è stato poi firmato l'atto di vendita con i proprietari, che non vi sto a dire i nomi perché non ha senso, due soggiorni, ciascuno di 70 metri quadri, una cucina di 33 metri quadri, una cabina armadio di 14 metri quadri e poi 64 metri quadri di infissi. Cosa vuol dire 64 metri quadri di infissi? Eh? 60 metri quadri di infissi? Boh! 150 di parquet, 190 di piastrelle, sul tetto verranno inoltre installate 48 pannelli fotovoltaici su quattro stringhe. La piscina sarà invece di 9 metri per 3 metri e mezza, profonda un metro e mezzo, comportata di 47 mila litri. Il prezzo 1 milione e 100 è un immobile di 15,5 vani catastali. Di questi 300 mila sono stati già versati da Meloni con assegne bonifici, restanti 800 mila saranno pagati alla stipola del definitivo entro e non oltre il 31 ottobre, a condizione che i venditori abbiano effettuato lavori di straordinaria manutenzione che dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre. Poi il fatto, dice, si prevede 177 mila euro per la ristrutturazione interna, 104 mila euro per l'impianto fotovoltaico da 20 kilowatt e impianto termico ibrido da 46 kilowatt, più opere esterne per 77 mila euro, dei quali 30 mila solo per la piscina, per un totale di 359 mila euro più IVA, inclusi già nel milione e 100 mila euro pattuiti. Beh, diciamo che i prezzi a Roma sono alti, qui 350 metri quadri non sono intorno ai 3 mila euro al metro quadro, perché se noi prendiamo la calcolatrice e facciamo così un conto, un milione e 100 e li dividiamo per 347 metri abbiamo un costo di 3.170 euro al metro quadro. Vediamo quali sono i costi al metro quadro a Roma. Negli ultimi due anni il prezzo medio all'interno del comune di Roma ha raggiunto il suo massimo nel mese di marzo del 2023 con un valore di 3.318 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2021 per un immobile in vendita richiesto in media 3.253 euro al metro quadro. Poi diventa, dipende anche dalle zone, perché per esempio adesso l'affitto sono 15,05 euro al metro quadro. Si va dai 9,95 fino ai 24,46, mentre a Roma si va da 1.746 euro al metro quadro fino a 7.521 euro al metro quadro. Quindi diciamo che la casa che costa meno di 100 metri quadri potrebbe essere 174.000 euro. La casa che costa di più di 100 metri quadri potrebbe arrivare a 752.000 euro. Quindi un appartamento di 100 metri quadri magari in una zona super prestigiosa del centro di Roma vi costa anche 752.000 euro per 100 metri quadri. Naturalmente poi ci sono trattative riservate che potrebbero far salire quel costo ancora di più. mentre nella zona meno cara di Roma un 100 metri quadri può essere 174.000-175.000 euro. Capite che ricevere comunque un'eredità di una casa a Roma insomma vi dà un bel po' di soldini. Naturalmente poi a sinistra se voi ricevete una casa di eredità a Roma che vale 500.000 euro siete considerati dei ricchi quindi magari guadagnate 1300 euro al mese ma ricevete quell'eredità per fratto gli anni quelle persone lì siete già dei ricchi da tassare con patrimoniale perché avendo immobili di quel tipo lì e poi si scopre che magari è un 100 euro metri quadri della nonna che vi ha lasciato e che siete diventati ricchi per la sinistra con quell'eredità ma continuate a lavorare alzandovi alle 5 del mattino per 1200 euro al mese. Va bene così vi ho raccontato anche questo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Grazie e arrivederci a presto.